Che cibo avremo nei prossimi 30-40 anni? Che cosa lasciamo in termini di alimentazione ai nostri figli? Sono un po' preoccupato perché mentre oggi il problema è di accesso al cibo per alcuni paesi poveri che non hanno le risorse finanziarie per acquistare cibo, però dall'altra parte ci sono paesi in cui, e questo è un grande paradosso, assistiamo a degli sprechi enormi e pertanto il problema è soltanto politico di accesso, io ritengo che in futuro per una serie di motivazioni, soprattutto l'aumento della popolazione, i cambiamenti climatici, la destinazione di una parte di cibo per consumi energetici, farà sì che veramente il cibo mancherà, cioè sarà un problema quantitativo e questo dovrebbe spingere il nostro paese, il nostro governo comunitario oggi a preoccuparsi per quel domani in cui il cibo mancherà, perché questo lo si può fare soltanto sostenendo e mantenendo un'agricoltura efficiente in grado di assicurare il futuro e il domani, perché il cibo è un bene comune, quando manca il cibo oggi non è un problema, lo compriamo sul mercato globale, quando manca in assoluto il cibo ciascuno cerca di soddisfare i propri bisogni e naturalmente quando si creano problemi di difetto si chiudono le tocane e noi dove andremo a comprare il cibo che mancherà? Una risposta telegrafica a questa domanda, il provvedimento migliore dell'Europa è il peggiore nel comparto agricolo? Penso che il provvedimento migliore sia quello di voler confermare, almeno questo nelle intenzioni, una politica agricola comunitaria significativa anche sul piano finanziario, questo è importante perché dà una lettura di un'Europa che vuole comunque mantenere la sua agricoltura efficiente soprattutto in prospettiva, quello peggiore è la completa e continua disattenzione ai temi della qualità, debbo dire della sicurezza alimentare e della distintività territoriale, noi vorremmo che in Europa si riconoscesse la straordinaria qualità e distintività delle nostre produzioni tipiche e invece non ci riusciamo mai. Grazie Presidente. Grazie, grazie a te.